Dimentica quello che ti ho detto, scusami. Dai, vieni qui, va bene? Non prendertela così, non pensavo a quelle cose che ti ho detto. Che c'è? Cos'è? Calmati, respira, 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 respira. Respira. Prendi fiato. Piano, piano. Stai meglio? Mi hai spaventato a morte. Perché non mi hai detto che avevi l'asma? Te l'ho detto nella mia lettera. Sì, ma la tua lettera, lo sai quante lettere dicevo io? Potrò fare il giro sulla slitta? Ma certo che lo farai il giro, non ti preoccupare. Sì, perché altrimenti non riuscirò a vedere il mio papà sulla sua stella. E chi te l'ha detto? Me l'ha detto la mamma, è per questo che ti aiuto. Non devi accendere. Io non sono stato. E vieni, abbiamo del lavoro da fare.